L'autopsia è stata disposta, verrà fatta tra oggi e domani, i risultati non saranno immediati perché sono necessari esami di laboratorio e quindi appena si saprà qualcosa di definitivo e di chiaro, senz'altro su questa cosa verrà data opportuna comunicazione. In attesa dunque dell'esito autottico sul corpo dell'autista quarantenne Alberto Rizzotto sono state identificate le vittime del tragico incidente avvenuto mercoledì sera sul cavalcavia di Mestre, 21 i morti, 15 i feriti. Le vittime sono state tutte identificate a stamattina, quindi a poche ore fa e quindi per quanto ci riguarda abbiamo restituito le salme alle famiglie e quindi alle autorità amministrative che si occuperanno del rimpatrio. Questa era la priorità, ribadito Kerchi, ora si pensa alle scatole nere, soprattutto a quel buco sul guardrail che sarà esaminato non appena si troveranno i tecnici idonei, dice. Lì è sempre sotto sequestro, stiamo valutando l'ipotesi di fare una consulenza per valutare come era la situazione di fatto. Intanto tra chi conosce bene gli autobus, la strada e soprattutto Rizzotto, definito, scrupoloso e competente, sorgono dubbi sul fatto che prima di precipitare potrebbe aver incontrato un ostacolo sulla sua strada e proprio per evitarlo avrebbe sterzato. Un ostacolo luminoso, dice qualcuno, come questo. Nel frattempo gli inquirenti continuano a cercare di reperire informazioni dai feriti. Il problema è la situazione fisica e soggettiva in cui si trovano gran parte di quelli che sono ancora negli ospedali del Veneto. Sono situazioni molto gravi, ripeto, sia da un punto di vista fisico ma anche da un punto di vista psicologico. Quindi dobbiamo valutare anche con un po' di equilibrio umano, prima ancora che giuridico, come sentirli, se sentirli e quando sentirli.